Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane da oggi, io vieterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranti, seguitemi! Se vi ritroverete soli, a cavalcare su 20 braterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi elisi e sarete già morti! Fratelli! Fratelli! A mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Fratelli! Ti chiamo Massimo Detimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, serfo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa e trova la mia vendita. In questa vita o nell'altra, in questa vita o nell'altra, al mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riechizzo dell'eternità. Io non sono stato signore perché uccidevo velocemente. Ero migliore perché la folla mi amava. Conquista la folla e conquisterai la libertà. Conquisterò la folla e darò qualcosa che non ho mai visto prima. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ero migliore! Ero migliore! Ero migliore!